Il 5 aprile, come ogni anno, alle 22 ci si ritroverà a Via 20 Settembre per dar vita alla fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto del 2009 nell'anno del decennale. Quest'anno per il Governo parteciperà il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e l'appuntamento è stato pubblicato anche sulla pagina ufficiale del Governo. La fiaccolata rappresenta uno dei momenti più importanti con la commemorazione delle vittime e anche i 309 rintocchi dalla campana della chiesa in piazza alle 3.32 per ricordare tutti coloro che quel 6 aprile di dieci anni fa morirono sotto le macerie. Ci sono tanti eventi commemorativi però in occasione del decimo anniversario anche alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Finanza che in quei giorni fu un po' la casa di tutti gli aquilani. Il 6 aprile in particolare alle 10.30 nella piazza d'armi intitolata piazza 6 aprile ci sarà l'alza bandiera, la riposizione dei vestigli a mezz'asta, la presenza del comandante generale Giorgio Toschi, delle massime autorità civili e militari, degli allievi in formazione e di una rappresentanza delle scolaresche dell'Aquila. Ci sarà la deposizione di una corona di alloro in onore delle vittime del sisma nella medesima piazza che all'epoca ospitò peraltro i solenni funerali di Stato. A seguire ci sarà un evento rievocativo delle operazioni di soccorso con interventi del comandante della Finanza, del comandante della Scuola Ispettori, del comandante regionale Abruzzo il generale Agnello, dell'onorevole Gianni Letta, del dottor Angelo Borrelli capo della protezione civile e ci sarà anche Franco Gabrielli capo della Polizia di Stato e allora prefetto dell'Aquila. All'interno della scuola sarà allestita anche una mostra fotografica a tema sul contributo fornito dalla Guardia di Finanza, una mostra statica dei mezzi di soccorso sia ad epoca che recenti a cura di poste italiane. Si renderà disponibile uno speciale servizio filatelico con annullo dedicato al decennale. Grazie.